Ciao ragazzi, benvenuti su Cassiub Drums. Oggi voglio farvi vedere 4 quick fill da figo. Che cosa vuol dire quick fill? 4 fill super veloci, ma non vuol dire veloci così, ma 4 fill che durano poco, ma sono molto 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 efficaci. Oggi vi spiego tutto, c'è il pdf che potete trovare andando qui sotto in descrizione, vi riporto al mio canale Telegram e su Telegram potete trovare il mio pdf scaricabile ovviamente gratuitamente. E per fare questo mi è arrivata una batteria da Adagio Italia, che ringrazio già subito, mi ha mandato la MAPEX Harmony, quindi voglio provarla mentre faccio questo video qua, so già che c'è una cosa per cui è una bomba, vi faccio vedere una cosa, poi faccio partire la sigla, intanto voi fremerete un po' per vedere la batteria completamente montata e poi andiamo. Sto per morire ragazzi, sto per morire, porca miseria ragazzi, porca miseria, volevo far rimanere di stucco voi, ma ci sono rimasto di stucco io, è uno dei colori più belli che abbia mai visto per una batteria, basta, vado a montarla, mando la sigla e così la vedete tutta completa, qui dietro di me. Eccoci qua ragazzi, ho montato completamente la batteria, guardate che figata forse, sono un po' davanti, adesso ve la faccio vedere così perché è veramente imbarazzante, quanto è bella questa finitura, veramente non me l'aspettavo, non me l'aspettavo così, comunque adesso ve la faccio sentire pian pianino andando avanti a farvi vedere i fill e poi ve ne parlo un po' perché ci sono un bel po' di cose da dire. Ma partiamo subito con il primo quick fill per tutti, veramente questo è per qualsiasi batterista a qualsiasi livello. Ok, come avete potuto vedere questo è un fill figo perché sembra pieno di roba, sembra che faccia continuare il groove alla grande, ma in realtà è abbastanza semplice. Che cosa succede? Casse e rullante rimangono lì, pensate al groove. Nel fill casse e rullante continuano a fare la stessa cosa. Mentre la mano destra, la mano forte, anziché suonare gli ottavi sul charleston, va per due quarti a suonare tutti i levari di sedicesimo sui vari tom. Quindi one, two. Andando a mettergli anche il cassa rullante. Questo è un effetto veramente molto bello. Casse e rullante rimangono lì, così almeno il groove continua a girare, continua a camminare, ma intanto diamo dei colori diversi. Intanto avete sentito la batteria come suona? E suona di brutto ragazzi questa batteria. Vi ricordo che è la MAPEX Harmony. Vi parlo un attimino di questa batteria, così la conoscete e sapete che cosa sto suonando. È una batteria a 6 strati con betulla acera, poi di nuovo betulla, in tutto 7,2 mm di spessore. Cerchi tutti i power hoop. Abbiamo tom da 10x8, 12x9, timpano 14x14, timpano 16x16, cassa 22x18. Rullante invece in acciaio da 14x5,5, che ha una bella legna, devo dire. Per il resto la batteria mi sta piacendo molto perché, a parte l'accordatura che è semplicissima, e poi più che altro la gamma sonora che riesce a dare è ottima. Ovviamente tutti i link vi servono tranquilli, li avete qui sotto per andare a vedere tutto quanto di questa batteria. Trovate qui sotto in descrizione. Ve la continuo a far sentire per tutti gli altri 3 fill. Adesso andiamo avanti e praticamente diamo un boost aggiuntivo al primo fill. Perché il primo fill in realtà, che era questo... Perché ho tolto la cordiera? Lo possiamo fare in tantissimi modi. Volendo lo possiamo fare anche al contrario. Questo si può fare, ma sarebbe uguale a quello prima. Quindi voglio dare qualcosa in più. Prima cosa, il primo e l'ultimo colpo, dati da, in questo caso, timpano 2 e tom 1, saranno da suonare insieme a rullante, quindi... Voglio fare un'aggiunta aggiuntiva, però. Cioè andare a mettere una cassa tra timpano 2 e timpano 1 e una cassa tra tom 2 e tom 1. Quindi... Poi, ovviamente, queste sono idee di fill. Voi andate a creare le vostre. Ad esempio, che ne so, voglio lasciare un po' di sospensione con l'ultimo colpo di rullante e crash. Anziché di tom 1 e charleston. Si può fare quello che si vuole. Ricordatevi sempre di copiare quello che faccio io e poi cercare di farlo vostro per crearvi un vostro linguaggio. Andiamo avanti. Quanto cavolo suona questa batteria, ragazzi. Quanto cavolo suona. E quanto mi piace la finitura. Andiamo ancora un pochettino su di livello. È sempre un fill breve, ma... sempre di due quarti, ma continuo anche dopo il battere. Ve lo faccio sentire. Vediamo che c'è qualcosa di strano. perché io vado avanti e il fill continua, anche se non dovrebbe. Il fill giusto sarebbe... Io ho fatto un'aggiunta, in pratica. Andando a finire col crash e il rullante. Non con la cassa, come si fa di solito. È il crash o il china, quello che avete, ovviamente. Quindi, in pratica, il fill comincia sulla terza pulsazione, facendo... E il rullante, che avete sentito adesso, è già sulla quarta pulsazione. Quindi si posiziona nella pulsazione giusta, solita del rullante. Successivamente, cassa, timpano rullante. E poi, di nuovo, già sulla battuta successiva, cassa, timpano due rullante. E poi, due colpi di cassa, prima di cominciare di nuovo il groove, già sulla battuta dopo e sulla seconda pulsazione. Quindi, questo è veramente molto, molto, molto interessante. Provatelo, fatelo vostro e poi createne di nuovi. Ultimissimo, linear. Vi piacciono sempre i linear? Quindi vi ho messo anche un quick fill linear, molto particolare, ma non così difficile. È veloce, ma non è così difficile. Sentiamolo. Qua siamo nel mondo shuffle e il fill è in sestine. Volendo, lo stesso fill si può fare anche tranquillamente in binario, mantenendo sempre le sestine. Nessuno vieta mai niente, tranquilli. Quindi, come funziona? Sono tutte terzine alla Bonham. Partendo con la cassa, quindi non rullante, rullante, cassa, rullante, rullante, cassa, ma cassa, rullante, rullante, cassa, rullante, rullante, disposto in questo modo. Tom 1, 2, rullante, 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 Quindi questo è abbastanza semplice perché alla fine è sempre la stessa cosa Però è molto d'effetto, è molto figo e soprattutto continua anche in questo caso a far galoppare il groove Comunque se voi state portando un groove shuffle Riesce sempre a dargli quell'andamento che tira un po' avanti Quindi questi sono i 4 fill, 4 quick fill, ve li trovate tutti nel pdf Qui sotto ve l'ho già detto, andate, vi riporta a Telegram, vi riporta al pdf scaricabile tranquillamente Quindi basta, vi posso salutare Arrivati a questo punto io voglio sicuramente ringraziare tantissimo Adagio Italia Per avermi mandato questa batteria ragazzi che io spero si sia visto quanto è bella la finitura Cioè sapete che io mi prendo bene per le finiture Ma non sempre, devono essere veramente una bomba E questa è una delle finiture più belle probabilmente che abbia mai portato sul canale Non l'avevo mai vista, sinceramente Ed è una cosa pazzesca Spero veramente si sia visto dal video perché è fuori di testa come cosa, è fuori di testa Detto questo comunque spero che il video vi sia piaciuto Spero che i 4 fill di cui vi ho parlato, che vi ho spiegato, vi servono, vi siano piaciuti Vi possono servire in generale, in qualsiasi genere musicale voi suoniate Vi ricordo di scaricare il pdf, mi raccomando Di seguirmi sui miei social, instagram, facebook, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Perché un sacco di gente guarda i miei video ma non si iscrive Quindi fatelo, seguitemi un po' dappertutto Andate su telegram come vi ho detto così scaricate il pdf Fate tutte le varie cose E noi ci vediamo al prossimo video Ciao